Buongiorno frigolline, oggi è domenica 5 luglio, siamo ancora un po' sonnati perché di Sara siamo tornati a casa tardi, aspettate che abbassiamo sta tv, qui c'è il laneto piccolo e oggi andiamo in piscina e ovviamente io sono piena di maglie di pancia ma c'è, era ovvio no, e quindi niente ci vediamo dopo che andiamo in piscina, adesso ci prepariamo nel caso anche che mi dia una depilettina, non è proprio modaiole in questo momento, infatti teniamo le basse mi raccomando, che bello sei, hai fatto collezione, hai bevuto il latte, hai bevuto il latte, parla amore, mamma, parla, ciao dopo, aspetta che bubo bubo, mamma, che no, che no, che no, che no, cos'è che vuoi? Il succo vuoi? Il succo, ma dimmelo bene se no non te lo do, cos'è che vuoi? Il tucco, il tucco vuoi? Adesso te lo do il tucco, tieni, piano, pianino, dai, che buono il tucco, finito? Il tucco, l'hai finito il tucco? Il tucco, eh? Tucco, 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 ciao, ciao, andiamo in piscina, eh? No, la duda, amore, non può venire in piscina, io la porterei anche, non le lasciano entrare, dobbiamo, basta, grazie, dai a mamma, no, allora, tientelo, eh? De che andiamo? Alla, stai mettendo in ordine. Alla, stai mettendo in ordine. la palla. Cos'è che vuoi? La palla. Che palla? Non ce l'abbiamo, la palla dietro. Dove è che andiamo? Dove vuoi andare? A prendere la palla? Non ci sono palla, come non è. è che andato? Non ci sono palla? Non ci sono palla, non ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. non vieni qui non vieni qui non vieni qui se quando mi sono tiri fuori mmmmmmmmmmmmmmmmm la papa mandiamo la papa Ale a Bavaglia Ale? a Bavaglia metti il suo tutto qua dai che si mangia la papa sentiti qua mettiti il seduto se no non si mangia bravo la pappa brighellino alla pappa mangiamo adesso l'insalata di riso buona dove è che vuoi andare? nell'acqua ma hai appena mangiato? basta amore amore devi aspettare dove sono le ciabattine? adesso andiamo amore bisogna mettere sul costume adesso mettiamo sul costume e diamone l'acqua andiamo in acqua andiamo in acqua Aller! vale eeeh nell'acqua ciao sono chieto ora non è chieto non è chieto non è chieto non è chieto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Prima si schiumava, adesso abbiamo fatto un'oretta di bagnetta, per un po' torniamo dentro un'altra volta. E niente, ci stiamo divertendo tanto. Dove stai andando? Mettersi seduto. No, 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 no. No, 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 no. andiamo via col cabrio si schiuma oggi che caldo ragazzi niente è arrivato il momento peggiore della giornata cioè siamo arrivati a casa adesso devo sistemare attaccare lavatrici passare l'espiropolvere perché in dire la poverina che è rimasta a casa deve aver perso metà del pelo che ha addosso e ho pelo in giro dappertutto fa veramente schifo sembra ci sia ecco pelo nero di cane in giro dappertutto con un'eleviata di mamma o su amore quando potrai venire in atti tempici non ti ci portiamo però aggiorniamo poche voci non ti lasciamo più a casa da sola muori inizio se non finisco più bene ragazze sono le dieci siamo cotti Alessandro sta già dormendo Manuel mancherà tipo dieci minuti io ho appena finito di fare la doccia e sto già sudando un'altra volta vi prego ditemi quanto manca a dicembre quanto manca a dicembre quando arriverà un po' di neve un po' di fresco freddo freddo voglio il freddo mi voglio vestire dover vestire tipo di cipaglia di cipaglia di cipaglia di maglie ma così non si può vivere basta ciao ciao Grazie.